C'è grande preoccupazione tra i rivenditori di Pellet che poi devono collocare il prodotto al consumatore finale. Loro stessi stanno riscontrando un aumento di questo prodotto davvero esponenziale. Allora, la problematica nel Pellet è ormai mesi che c'è, non è una problematica che si è riscontrata nell'ultimo mese di vendita. È chiaro che gli aumenti sono diventati sempre più esponenziali sia per noi che chiaramente sull'acquirente finale. Siamo costretti, cosa che negli anni precedenti non avveniva, a vendere lotto-lotto. Quindi se arriva un lotto di materiale facciamo i preordini del relativo materiale con consegna poi programmata col cliente. Proprio perché rischiamo anche noi di immagazzinare poi materiale che arriviamo poi a vendere a gratis in buona sostanza. Perché eravamo abituati a vendere sui prestagionali dove chiaramente il materiale aveva degli aumenti leggeri nell'arco dei mesi poi a venire. Cosa che qui non sta avvenendo, ci sono aumenti che vanno anche da 1,50 euro a 1,60 euro al sacchetto da 20 giorni a 20 giorni. Io ho avuto quotazioni, non nego nel dirlo, quotazioni anche di acquisto a me come rivenditore a 10,43 euro al sacchetto. Cosa che io ho rifiutato perché a quel punto cerchi altre strade. La gente pensa che gli speculatori finali siamo noi. No. Allora noi chiaramente ci troviamo con un esposto economico importante e con ritardi talmente tali che a volte siamo anche impauriti nell'accettare i preordini. Ho forti ritardi nel materiale, veramente grossi. Quindi ho un materiale che doveva arrivare circa la prima settimana di luglio, cosa che ancora non è arrivata. E ho un esposto economico importante perché tutte le aziende che vendono pellet, e questo lo ribadisco, proprio lo sottolineo, non è ad oggi, non esiste ad oggi azienda che ti vende il materiale, quindi il pellet, con pagamento all'arrivo. Non c'è. Il rischio è che per risparmiare molti si rivolgano al mercato online, dove verificare se si incorre in una truffa o meno è decisamente complicato. Di casi ce ne sarebbero già molti. C'è anche il rischio di prendere delle grosse fregature, perché anche noi cercando di accontentare tutta la nostra clientela cerchiamo fonti nuove, ma non è detto che la fonte nuova che troviamo sia sicura. E' questo il rischio. Quindi nel momento in cui ho un esposto economico importante, la nostra grossa paura è che arriverà mai questo materiale. Anche per la legna da ardere gli aumenti si aggirano intorno ai 4-5 euro a quintale. Dai 14 euro della scorsa primavera si passerà ai circa 19. Acquistare laddove uno può quanto prima, perché il rischio c'è che gli aumenti che ci saranno poi nella fase ottobre, novembre, dicembre, siano no esponenziali di più.